messerie madonne sono giorni che cammino sotto il sole cocente per giungere a voi nell'antica terra di apulia rapidamente nardò 3 5 e 6 agosto a correte numerosi che per tutti vi è posto dame giullari cavalieri falconieri e tanti spettacoli ad aglietare nardò la cavalcata storica sta per tornare